Carissimi soci, buonasera, vi abbraccio tutti, ci siamo lasciati alla vigilia della nostra assemblea per il 29 febbraio, sembrava un rinvio, poi è stato un annullo e poi gira sono passati più di due mesi, due mesi di angoscia, di dubbi e ancora oggi non li abbiamo risolti e spero stiate tutti bene, dalle notizie che ho avuto sembra che nessuno dei nostri soci abbia subito l'attacco di questo terribile virus e nel mentre ho mantenuto i contatti con tutti voi, siete stati come sempre particolarmente amichevoli, carini, vicini, mi avete anche fatto tanto ridere con i vostri messaggini via whatsapp, vi siete interessati, io sto bene, sto molto bene, Marina sta anche tanto bene, tutto procede regolarmente, anche i miei familiari sanno bene, siamo qua, chiusi tra casa e giardino, mi auguro che tutti voi abbiate comunque un piccolo sfogo e penso che chi ha cani solitamente ha un po' di terreno, dei giardini, dei terrazzi e che possiate comunque così affrontare meglio questo periodo che ahimè non è ancora terminato, facciamo molta attenzione, tanti di voi mi chiedono, Pietro allora le esposizioni, le esposizioni ne ho parlato ancora proprio ieri sera col presidente dell'Enci, Dino Muto che approfitto per ringraziare perché è molto vicino a tutti noi cinofili, non se ne parla ragazzi, probabilmente andremo l'anno prossimo, forse a marzo ma non è possibile organizzare eventi in un momento come questo e quei tempi che ci stanno aspettando, è impensabile raggruppare persone nei numeri a cui noi siamo abituati, pensate solo il club cani compagnia quando si muove tutti insieme quante persone attira, se ipotizzato, ne abbiamo parlato con i consiglieri di organizzare dei piccoli raduni per sezione dove comunque grosso modo potrebbero partecipare quelle 30-40 persone in spazi ampi, ben distanziati, però Enci giustamente dice finché il ministero delle politiche agricole, finché il ministero, finché tutti gli organi proposti non ci danno il via, non si possono organizzare eventi, per cui ragazzi mettiamoci il cuore in pace. Lo so che per tanti di voi è uno sfogo, la domenica è un divertimento e parimente mentre vi divertite apportate e vi ringrazio un grosso contributo alla tutela delle nostre razze, perché le divulgate, impiegate tante risorse per ricevere in cambio poi un titolo che è tanto, però non avete nessun ritorno su quello e lo fate proprio perché amate la vostra razza e ci tenete a farla vedere e contribuite con i vostri allevatori a migliorarle. Tutti i miei complimenti. Parimente abbiamo gli allevatori, gli allevatori che secondo un profilo logico devono sottoporre i loro cani alle verifiche zootecniche perché è così che si ricevono delle linee guida, delle direttive per migliorare. Questo in effetti viene a mancare in questo periodo e vi invito pertanto a non accoppiare così per averla cucciolata, ma continuate ad accoppiare per migliorare di volta in volta la razza che amate. Tanti mi hanno chiesto cosa faccio, li accoppio o non li accoppio? Sì ragazzi andate avanti perché comunque tra la gestazione i tre mesi che portano alla consegna del cucciolo passano ben cinque mesi, io mi auguro che tra quattro e cinque mesi, ma speriamo proprio che questo sia un brutto ricordo, soltanto quello. In ogni caso questo è il mio consiglio, poi potrei anche sbagliare, ma secondo me soprattutto per quello che sono i cani del gruppo 9, dai Bichon a tutte le razze che tuteliamo, riuscirete comunque a trovare le famiglie dove collocare i vostri piccoli. Mi chiedono giustamente gli allevatori dei barboni, come fare visto che il cane barbone non riceve un pedigree definitivo ma al momento dell'accoppiamento o anche solo per esporlo il cane deve essere misurato e confermato nella taglia affinché sul pedigree venga poi a posto la taglia a cui quel cane appartiene. Le manifestazioni sono state sospese all'improvviso e loro sono rimasti un po' spiazzati. Ecco abbiamo lavorato con Inci e proprio da poche ore siamo arrivati a una soluzione. Voi potete accoppiare i cani anche non confermati indicando con la vostra dichiarazione la taglia del soggetto, ossia lo misurate voi, fate una dichiarazione, la legate al modello A e procedete. Il cuccioli li verranno regolarmente iscritti, li vedrete sul libro genealogico online. I pedigree verranno stampati poi quando tutto questo si sbloccherà. Tenete conto però che quei soggetti confermati da voi in questo momento transitorio, qualora dovessero riprodurre poi fuori dalla pandemia, andranno confermati regolarmente in esposizione come si è sempre fatto. Mi raccomando siate seri, collaborativi, misurate bene i vostri cani perché comunque sapete che i prodotti nati da intertaglia non potranno avere un pedigree regolare. Lo sapete già, procedete per il meglio. A breve metteremo la normativa sul sito e vedremo di compilare anche un facsimile come dichiarazione così da aiutarvi nel preparare la dichiarazione. Il nostro sito che è rimasto un po' arrugginito per un lungo tempo, finalmente si è sbloccato grazie all'intervento di più tecnici. Abbiamo già iniziato ad operare, qualche articolo è stato messo sul magazine, vi chiedo inviate degli articoli se volete, noi li inseriamo subito, mandate delle foto che fanno sempre piacere e per qualsiasi necessità contattate, qui trovate le mail, presidenza, segreteria, verrete ricontattati, vi risponderemo nel giro di un giorno, per cui non esitate a farlo. Ragazzi rimaniamo uniti, il nostro è un bel club, è un club forte, quando ci mettiamo tutti insieme siamo una forza e riusciamo anche a vivere momenti di convivio con le nostre cene, con le nostre iniziative molto allettanti, non c'è solo la competizione sul ring, che la competizione è giusto che ci sia, un po' il motore di tutto, però poi quando usciamo del ring riusciamo anche a essere piuttosto distesi, per cui rimaniamo in contatto, scriviamoci, chiamiamoci, telefoniamoci, non perdiamoci di vista in attesa di poterci rivedere di persona. Un caro saluto, a presto, Pietro.